E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterside Crypto io sono Emiliano e anche questa sera andiamo insieme a fare l'analisi tecnica dei mercati finanziari dei mercati delle criptovalute andremo a capire quello che sta accadendo a Bitcoin perché continua la fase di lateralizzazione, la fase di incertezza e allora andremo insieme anche a vedere quello che sta accadendo on chain andremo a capire anche quelli che sono gli inflow perché sono stati abbastanza significativi nella giornata di ieri e quindi andremo insieme un attimino a commentare la situazione anche rispetto al passato ma prima di partire come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace sotto questi contenuti iscrivervi al canale con clic sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati è l'unico modo che ho per arrivare a voi velocemente on time su un mercato che si muove altrettanto rapidamente quindi secondo me ne vale la pena quindi se vi piacciono questi contenuti e i reputati utili fatelo allora partiamo prima di partire da fare un piccolo approfondimento sull'on chain voglio farvi capire quello che sta accadendo perché grandissime indicazioni non abbiamo se non quello che stiamo rispettando abbastanza alla perfezione quello che è il triangolo o almeno fino ad oggi perché perché dopo questo fake fake di rottura ribassista abbiamo recuperato proprio in v-shape a questo punto cosa siamo andati a fare siamo andati a provare a tentare di rompere il triangolo sulla parte altra non ce l'abbiamo fatta lo vedete perfettamente respinti abbiamo provato a romperlo di nuovo a ribasso per il momento non ce l'abbiamo fatta e stiamo continuando un pochino a lateralizzare qui dentro quindi in realtà questi livelli di resistenza e di supporto si sono dimostrati molto affidabili soprattutto per qualche piccolo scalping perché vedete proprio come sono stati fondamentalmente rispettati poi sulle varie chiusure cosa succede ora? niente due ore abbastanza negative quindi un po' di drop ma senza particolari volumi ok? e quindi siamo andati ora a trovare supporto dove? eventualmente sempre su questa trendline quindi sui 36,7 in questo momento ci troviamo a 36,8 quindi in realtà è un movimento molto choppy molto non direzionale ok? e questo ovviamente porta sempre più compressione come dicevamo anche nella puntata di analisi tecnica di ieri e quindi porta comunque il prezzo a un decremento di volumi mentre attende appunto di prendere una direzionalità molto molto forte dobbiamo stare attenti alla dominance perché la dominance comunque sta continuando il trend rialzista e sull'orario abbiamo un segnale molto molto forte ovvero quello che è il recupero della 200 oraria 200 oraria che appunto ne avevamo già parlato come effettivamente fosse un livello chiave per la dominance ancora in tempi mesi scorsi ecco abbiamo rotto rialzo appunto la giornata del 24 maggio abbiamo poi dato indietro tanto eravamo tornati sui 41% e ora la dominance sembra aver preso una bella direzionalità rialzista sui 44,79 quindi sembrava aver voglia di continuare in maniera rialzista infatti quello che vediamo è che principalmente le alz stanno un po' soffrendo ok nei confronti di bitcoin perché bitcoin fondamentalmente lateralizza come abbiamo visto nello stesso tempo le alz stanno un pochino dando un po' indietro questo perché bitcoin sta prosciugando un po' di market cap da quella che sono le alz e qui vorrei un attimino fare una piccola digressione su quello che è appunto il inflow ok il net flow cioè l'operazione risultante da quello che è quello che finisce sugli exchange e quello che viene tolto dall'exchange di bitcoin perché perché se guardate quello che è successo nella giornata del 12 maggio vedete un inflow molto forte ok di ben 23.000 bitcoin ok e il prezzo che comunque ha seguito in fase discendente uguale abbiamo avuto 17.000 e un altro outflow ok poi abbiamo avuto degli outflow abbastanza interessanti soprattutto venivamo da quattro giornate in cui chiudevamo sempre in outflow e lo stiamo avendo niente di particolare fondamentalmente dal 29 maggio ok quindi tutto il mese di giugno non abbiamo avuto particolari inflow e inflow ma siamo sempre stati abbastanza puliti con due belle giornate di outflow la giornata di ieri butta dentro 15.000 bitcoin quindi attenzione perché noi non sappiamo effettivamente il perché finiscano sugli exchange si può pensare che sia per venderli per comprare al coin per usarli come copertura per eventuali posizioni quindi non sappiamo esattamente quello a cui servono ok però possiamo immaginare che sicuramente non è un bellissimo segnale perché vedere gli inflow sugli exchange vuol dire che solitamente può essere che vengano venduti perché vediamo che storicamente avere degli inflow non porta un rialzo dei prezzi ma solitamente porta una leggera caduta non possiamo però speculare troppo su queste cose perché ricordatevi che a volte accadono degli inflow importanti e poi non si concretizza un particolare dump quindi non è per forza uno o l'altro perché sennò avremo la sfera di cristallo però è un segnale che può esserci utile per andare un attimino a comprendere quello che può accadere e quindi attenzione a questo fattore qui passando appunto alla dominance che sta un pochino andando a riprendere quota quello che vediamo appunto sulla market cap delle alze è un po' di debolezza perché in realtà stiamo continuando a lateralizzare sulla parte bassa ok quindi non stiamo riuscendo a tenere il trillions ma siamo 850 billions per quanto riguarda la total invece è un po' più stazionaria direi che è un po' al centro del nostro andamento anche lei si sta stringendo siamo sugli 1.54 trillions quindi stiamo viaggiando un pochino su quelle che sono le cifre che abbiamo già visto per quanto riguarda la total market cap nulla di particolare lo sapete che per me tornare a 2 trillions è molto importante per andare a recuperare quello che è un valore di mercato molto significativo che dà fiducia quindi per il momento però siamo sideways stiamo un po' in attesa siamo un po' con i riflettori puntati bisogna stare attenti secondo me in questa fase alle alze perché le alze stanno un pochino soffrendo e su questo vorrei farvi vedere anche il grafico Ethereum Bitcoin perché è molto significativo perché guardate sull'orario come sta andando indietro ok la coppia quindi attenzione qui c'è ancora aperto quel trade lì che avevo fatto vedere però vi fa capire proprio come il downtrend come Bitcoin stia prosciugando capitali dalle principali alz e lo si vede molto molto bene su Ethereum Bitcoin perché vedete che adesso questi sono candele orari ma se lo guardate anche sul giornaliero vedete proprio come in realtà abbiamo 4 giornate veramente negative nel confronto con Bitcoin questo non perché stiamo assistendo a particolari dump perché in questo momento abbiamo avuto anche dei recuperi però vediamo come Bitcoin per tenere quei livelli di prezzo sta andando a prendere market cap dalle alze ok? secondo me la mia lettura è questa cioè Bitcoin prosciuga market cap dalle alze e questo è un parametro da tenere in considerazione è una di quelle situazioni che è molto molto pericolosa prendetela sempre con le pinze perché ovviamente io non vi do nei consigli di investimento nei finanziari come sempre però è pericoloso un andamento del genere perché rischia di con una dominance al 44,7 di poter portare Bitcoin velocemente sopra il 50 e se ciò accadesse senza particolari inflow monetari o senza particolari appunto inflow per quanto riguarda dollari freschi ok? quindi in total market cap potrebbe portare le alze a dare indietro parecchio quindi il mio consiglio in questa fase di mercato è quello di stare un pochino attenti anche alle alze per questo motivo qui ok? non vuol dire che ora dovremmo per forza chissà che fare chissà che tragedie però è per farvi capire come la dominance giochi un ruolo chiave anche sulle fasi di debolezza di mercato perché lì si può generare insomma quello che può essere un ribilanciamento dei pari portafogli ok? perché ricordatevi che come facciamo noi un ribilanciamento lo fanno anche i player che movimentano capitali molto più grossi quindi nel momento in cui hanno fatto dei buoni profitti sulle alze e Bitcoin soffre un po' di più possono spostare il loro capitale anche su quello che è il comparto Bitcoin e quindi andare poi a prosciugare market cap dalle alze quindi io non voglio andare a vedere 1500 alze in questa fase perché secondo me la partita ci si gioca qua Ethereum Bitcoin lo sappiamo da sempre che è una delle coppie più importanti per quanto riguarda sia le alze season sia i i vari movimenti che vediamo sul mercato perché è molto un benchmark molto importante per quello che riguarda appunto i movimenti delle alze quindi in questo momento è da osservare un bounce eventualmente di Ethereum Bitcoin da lì osservare come reagirà il mercato ok? come reagiranno anche le alze ragazzi io mi fermo qui fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate perché mi fa sempre piacere leggervi tutti iscrivetevi al canale con la sua campanellina se questi contenuti vi piacciono sono interessanti per voi lasciatemi un bel like che mi aiutate davvero tanto col canale noi ci vediamo domani mattina con il Morning with Crypto ciao a tutti ragazzi e intanto una buona serata ciao a tutti